Ed eccoci al secondo video del wallthrough di Lara Croft and the Temple of Osiris, siamo sempre qui Mentre Alessandro si diverte, eh si, sempre qui la compagnia degli abili, dei diversamente abili Ok, dai, ecco, lui già è ballato di sotto, io quasi, però sono riuscito a pigliarmi Ok, e ti senti quanti quelle norme cosa laggiù? Ah, c'ha subito un boss, dai, spacchiamo il culo E' un coccodrillo con i capelli Cosa è? Ha una parte, sta vibrando pure il joypad Ah, mi sembra che è una, una speedrun qua Ah, sono andato di sotto, merda Eh, ok O lui che rimane in vita Eh, io sono morto Scavolo qui, c'è le sue salvie mobili Dove sono io? Oh, cazzo, come si fa per essere sotto qui? Dove sto io? Ok Come si fa da passarsi? Tosto a test Raga Oh Raga, non mi lasciatemi Oh, ecco Dove sei tu? Eccomi Eccomi No, io non lo vedo Io non lo vedo Io non lo vedo Io non lo vedo Non sto necessitando E' in volo E guarda, ti sto deletturalmente sotto Accendi quella roba la per terra Accendi quella roba Che roba è? Io mi vedo bene Ah no E che serve? Ecco che serve Ah, ecco che serve E qua alza un po' No basta che vorrete Nel cavo e salite Vabbè Eh però a te te lo devo attaccare Ehm Mettiti più lontano Lévate cae età Lévate le butiente Vai la palà E non t'essi attacco a te cosi dai Vabbè auxiliary Inverificare Dai Oh cavo Eh no Però Ciasha è rimasto morto àah Ecco io Chi è che è L'unico vivo Che è rimasto vivo Ah, sai che lo gli alzo salite tutti dai salta lì salta dai tutto lo tengo alzato tra l'altro potrò... ah no niente vabbè dai ah ma bisognava salire soltanto per... si infatti portiamolo via ah me sta ammazzando assenza lo devo usare io ahahah lo devo spingere io aspetta ok aspetta che... fermo 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 fermi non mettete vicino mi fa male dai lo spingio anch'io ah vedi vedi dai gaedal ah bisogna metterlo là sotto dentro dentro quella cosa oh che cazzo dentro sta cosa dai ok vai 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 ok di qua c'è un'altra ok prendiamo 6 gm qua qua c'è bisogno di voi secondo me qua non c'è bisogno di nessuno oh fammi toglie fammi toglie che cazzo è? perchè sto a fuoco? ah vada a fuoco fatti passare con la mia bella palla infuocata ok a posto adesso? adesso ecco la mitraglietta è mia che lei è di tutti lei è di tutti ah si vedi ah pure io la mitraglietta ma con un dio che spara e vai che be- oh cavolo oh attenzione ma che bello il dio che vuoi fare un pochetto di mortale che era munizioni per terra? oh si vedi c'è la barra blu è la barra blu è una specie del mana mio invece c'è un insetto che mi seguiva oh vieni dai andiamo ma io non vedo nessun nemico eh andiamo ma perchè? l'avevano già uccisi eh già ok eeeh clay perchè stai fermo laggiù? io sto qua sei tu quello tu sei stai giù no io ma chi è Lara qui? sei tu oh io Lara torna indietro dove vai? perchè vai indietro? oh io vedo clay laggiù vi giuro ma io vedo qua io sto qua vedi che sto sparando qui io sto avvicinando a Gaetano sulle scale eh segui Gaetano è baggato dai sei baggato sei eh ho capito ma segui me cioè segui lui io non vedo te eh segui Gaetano eh non posso passare perchè vedo clay laggiù vedo clay ammazzate clay ucciditi no ammazzati tu so io che non sono baggato vabbè tu sei baggato che poi dall'altro lì c'è dietro mi sono ucciso beh e quindi ok beh posto dove sto adesso? dove stai tu? muoviti ma dove cavolo? guarda qua oddio mi stai facendo le... ma è baggatissimo che sta succedendo? oddio se salto mi... guarda qua ma guarda aiuto che sta succede? oh mio dio è un bug continuo ma guarda qua ma non è che... basta ah ecco oh sei fissato no aspetta si forse aspetta si si no sei ancora morto no aspetta non sei fixato ma ste cose si devono vedere poi vai che cazzo che sta succedendo? io non riesco a capire niente ma io non so dove sto ma che sta succedendo? oddio 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 io non riesco a... non saltare non saltare andiamo avanti senza saltare vabbè però dopo è il delirio totale ragazzi guarda muore le due scale guarda io muoio senza senso ma perché? oh mio dio ragazzi c'è un bug è enorme oh mio dio c'è un bug oh mio dio c'è un bug ho messo tutti i punti ho messo tutti i punti perché sei morto guarda io continuo a morire senza senso così ma ma oh no questa è un ragazzo mi viene proprio da rire perché questo è proprio bug no qua c'è c'è qualcosa che non va con il gioco no guarda stai fermo e sei morto guarda guardate sta fermo e muore aspettate ragazzi aspetti ti fisso io dai ragazzi prova a camminare fissato dai prova a camminare fissato eh salda stai fissato eh non vuoi eh ma ahahah 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 guarda c'è le convulsioni ragazzi ragazzo abbiamo riprovato stiamo provando a vedere se funziona ricaricando ma è appena capitato che dopo caricato siamo tutti quanti morti e scomparso tutto non so che cavolo è successo ecco amuleti ecco ma poi dove siamo finiti non eravamo qui prima ahahah che sta succedendo ah proiettili infocati mettiamo i proiettili infocati mettiamo i proiettili infocati i proiettili infocati colpa di avvio quelli sull'auto ma che sfigo però c'è la vita è infocato guarda ma io ti vedo che continua a sparà ma io ti vedo che continua a sparà ma io sto in una montagna sto sparando adesso il fatto ma perchè sei finito in una montagna guarda io vedo che sta dentro ecco caetano è morto guardalo ma non capisco ma non è che il lag ma guardalo ma si è messi in moto guardalo guardalo là dentro caetano guardalo lì ma io non vedo niente ma sto gioco è praticamente giocabile scusatemi come si sale? ecco ma ti è esploso caetano no la mia rete va bene ma che succede? la mia rete va bene io non ho problemi non so se la mia rete cioè ci sono dei bug guarda guarda io vedo chi è che sta a prendere i cristalli laggiù io l'ho presi però due minuti fa quasi oddio ma come oddio santo ma cosa succede? guarda anche io oh no ragazzi ma questo video non so è indemoniato sto gioco è indemoniato guarda io vedo che lei che si può sparare dove sono io oh ora sono tornato è che sono tornato anche io in vita ma che diavolo ma dove sto io? ma stanno io non riesco andavanti eh eh sto bloccato la oh non riesco andavanti non mi passa attraverso le cose dove non potrei passare guarda lui tu non ci dovrebbe passare io ti vedo fermo io ti vedo fermo lei è strazio oh dio sono schizzato via guarda qua eh penso che questo gioco abbia bisogno di una faccia guardate la mia granata come sta terra prima sta facendo il pallo del San Vito questo gioco bisogno di una faccia io sento un rumore eh ma è la granata guarda la mia granata qui guarda sta facendo il pò che d'artificio ci vogliono delle no questi non lo possiamo giocare perchè non lo baciano c'è ma non so se se sono proprio problemi dovuti a un lag inesistente sulle nostre mani oppure è proprio un bug di il gioco andata da puntare ma tra l'altro ho appena notato che io ho l'amuletto per i prezzi infuocati ma non me lo fa più infuocato qua io sono morto senza senso ma che cazzo è succedendo scusa mia ma se io rinno ah ma adesso non farà neanche più allora andiamo un po' di me va bene dai ci vediamo al prossimo video ragazzi cercheremo di fare un video senza parte non funziona più guarda ci sono le forse infinite qua guardala dai ragazzi guardala ragazzi sto gioco un casino ecco l'ho preso non si fa ma stai immobile oddio no ma aspetta scusate buttiamo 10 sotto ragazzi sto gioco è un casino dai chiudiamo il video ne faremo un altro proveremo a ricominciare la partita clay clay senti a me chiudiamo il video proviamo a ricominciare la partita perché penso che questo sia un bug che ci portiamo dall'inizio forse ma non lo so ma all'inizio non c'avevamo niente si ci ritroviamo sempre a questo punto a questo punto cioè a questo livello a questo si perché è ingiocabile non riusciamo a giocare e vabbè ci vediamo al prossimo video ragazzi è troppo pagato non tanto vabbè dai ragazzi al prossimo ciao ragazzi ciao ciao